Ciao mamma e papà, sapete qual è l'unica cosa veramente indispensabile il primo inverno dei vostri bambini? Ovviamente il sacco ovetto. Non acquistate e non fatevi regalare quelle bellissime tutone termiche che però sono altamente scomode sia da mettere per noi genitori ma anche per loro perché sembrano tutti insacchettati con il rischio anche di sudare molto all'interno. Il sacco ovetto resta l'accessorio indispensabile il primo inverno perché ne facciamo una questione di sicurezza. Appoggiato infatti sopra l'ovetto io ci adagio sopra il mio bambino, collego le cinturine e il nostro bambino sarà perfettamente sicuro perché le cinturine aderiranno al suo vestito senza spessori creati dalle famose tutone termiche. Una volta che io scendo dall'auto posso trasportare il bimbo avvolto nel mio sacco e appoggiarlo direttamente nella navicella. La pesantezza è una pesantezza invernale adatta anche agli inverni più rigidi. Poi il fatto di poterlo stringere con la culisse sopra lo rende quasi un sacco a pelo per cui mi servirà soltanto un cappellino. Il fatto che sia poi apribile fino in fondo mi consente di utilizzarlo come una giacca quindi entro in qualsiasi ambiente chiuso io posso aprirlo dando una perfetta traspirazione al mio bimbo non facendolo sudare troppo per poi richiuderlo quando esco all'aperto. Ovviamente disponibile in negozio sul nostro shop online doodinfazia.com contattaci per avere il sacco ovetto migliore per il vostro bambino.